I musicisti esteri che ci stanno inflazionando, Metallica in Italia, questo è il mio motto, questo è il motto di chi vive Metallica tutti i giorni Che combatte per il metallo italiano, che cerca di raggiungere i mercati europei, americani, ameripei, eurocani Perché metallo in Italia, ricordatevi una cosa, è dedicato a voi che ci siete I feel so insane Bless you, bless you to God To me